Ciao a tutti, in quest'altro video vi farò vedere i trucchi di Sonic Smash Brothers Allora, prima di tutto nel menu principale bisogna tenere premuto un tasto della tastiera Aspettate, adesso ve lo faccio vedere perché anche io ho trovato difficoltà a trovarlo Allora, eccolo, è questo qui, int, quello che trovate al lato, c'è scritto int Allora, lo tenete premuto e cliccate my menu Ecco, vi apparirà questa scritta e voi dovete digitare le password che avete scritto, che ho dato nella descrizione Poi, però, queste password le dovete inserire di nuovo quando ricomincerete a giocare di nuovo Per esempio, spegnete, poi accendete di nuovo e dovete scrivere di nuovo le password Ok, queste password sono utili per bloccare tutti i personaggi, per fare cose varie Ok, spero di essere stato utile a questo video e noi ci vediamo nel prossimo Ciao!